lo conoscete locone giovanni è pigro ma tanto tanto simpatico c'era una volta un locone grande grande di nome giovanni da piccolo lo chiamavano affettuosamente giù ma col passare degli anni vista la mole corporea raggiunta tutti presero a chiamarlo giovannone giovannone era anche ricordato tanto dalle persone per una sua particolarità beveva acqua in continuazione e che rumore emetteva deglutendo tutta quell'acqua ma secondo voi esiste veramente potete acquistare il libro locone giovanni presso la vostra libreria di fiducia o sui migliori store online se invece lo acquisterete sul sito dell'editore tomolo di jo avrete in omaggio un ricordo per poter vedere le animazioni buon divertimento e quindi